Una giovane donna plurilaureata, nel vano tentativo di comprendere le semplici istruzioni di montaggio della libreria acquistata dai Crea, è stata ricoverata con urgenza presso la clinica psichiatrica in seguito ad una forte depressione. La giovane donna, colta da improvviso e immotivato raptus da fai da te, ha montato al contrario i tasselli, facendo di una libreria un box duccia. Ricordando che si tratta di un caso assolutamente isolato, i Crea esorta le giovani donne a non scoraggiarsi e a seguire passo passo i disegni sul libretto delle istruzioni.